Nella settimana dal 22 al 28 agosto si è registrato un calo dei nuovi contagi da covid-19 in Sicilia, con un'incidenza pari a 10.747 casi e sono diminuiti anche i ricoveri in ospedale. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni e Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella settimana che va dal 24 al 30 agosto il 26,33% di persone nella fascia tra i 5 e gli 11 anni sono state vaccinate con almeno una dose. Hanno completato il ciclo primario 69.812 bambini. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,72%, mentre la percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è pari all'89,40%. I vaccinati con terza dose sono 2.760.768, pari al 72,29% degli eventi diritto in Sicilia. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei ragazzi con più di 12 anni, con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 13 luglio la vaccinazione in quarta dose è stata estesa agli over 60 anni alle persone ad elevata fragilità over 12, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo, secondo la data del test diagnostico positivo. Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 100.925 somministrazioni di quarta dose, di cui 46.939 a persone con più di 80 anni.